Salve e salve da Marco Calabro per conto di Alleanza Mobili. Ci troviamo oggi a Roma, siamo al Mua Casa nello stand di Mercucci Armento dedicato a Nicoletti Home. Stiamo vedendo adesso il divano Chamonix. È un divano che si caratterizza innanzitutto come vediamo per i braccioli laterali, caratteriali anche fortemente caratteriali il tipo di piede. Vediamo poi che il divano si può proporre sia con le spalliere in posizione chasse longue, come quella che stiamo vedendo, oppure nella posizione regolare di spalliere. Questo evidentemente avviene anche per le altre sedute. Quindi un divano sicuramente di riferimento in termini sia stilistici che di relax. Stiamo parlando del divano Chamonix che troviamo qui nello stand realizzato per conto di Nicoletti Home da Mercucci Armento.